illogica passione questa vettura non dovete cercare un motivo per comprarla dovete solo essere spinti dalle emozioni questa vettura si compra perché è un piacere vederla ed è incredibilmente emozionante guidarla esagerata bmw x6 x drive 3000 diesel 258 cavalli allestimento extravagante del secondo semestre 2015 con poco più di 100.000 chilometri soprattutto trasparente c'è infatti tutta la cronologia di tutti i tagliandi pedissequamente effettuati in concessionario ufficiale bmw trazione integrale cambio automatico interno in pelle navigatore tetto apribile fari led kyle sentry cruise control adattivo fari full led cerchi lega da 20 la lista di optional è davvero da togliere al fiato telecamere 360 gradi c'è davvero tutto full full optional capace a sognare e chi sognava già tra una botta che prendo e una botta che do tra un amico che perdo e un amico che avrò che se cado una volta una volta cadrò ed a terra da lì mi alzerò cerchi ormai che ho imparato a sognare non lo smetterò che ho imparato a sognare non lo smetterò a sognare non lo smetterò